Benvenuti al decennale di Rai Cinema. Siamo qui, noi, voi e il cinema italiano, per festeggiare questi dieci anni. Sarà retorica, vi sembrerà ovvio e banale, ma vedermi tutti, Rai Cinema, 0-1, tanti amici, tutti qua, insomma è una profonda emozione e vi voglio dire una cosa, senza pudore, lasciatela dire, vi voglio bene. Rai Cinema è unica, brillante, seducente, orientata verso il futuro. Qualità Forza incompresa Convincente Sincera Decisiva La Rai ha inteso addirittura rilanciare e rafforzare la nostra attività, decidendo di operare una maggiore integrazione tra Rai Cinema e 0-1. Rai Cinema è figlia del servizio pubblico, che significa cultura, rispetto per il cittadino, che significa amore per il cittadino. Rai Cinema è più di ogni altra cosa questo. Rai Cinema Liberale La Rai Cinema Fantastico, continuate così sempre, evviva, evviva Rai Cina.